Allora, buongiorno da Italia04, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, attivazione sotto, Monte Regola, Italia Eco Romeo 012, mi trovo sul Monte Zovallo, ho fatto circa un chilometro e mezzo dal passo dello Zovallo, dove l'ho lasciato al mezzo e adesso bisogna salire lì su che è la cresta del Monte Ragola, una breve discesa e poi si sale. Allora, usciti dal bosco qui della sella del Monte Zovallo e adesso c'è, mi ando a piangere, la parte più divertente, è una salita di tracciata, cosa saranno? 500 metri e poi metto il dislivello che è divertente. Lo metto sotto in descrizione. Sentiero segnato dal CAI come eco-eco, escursionisti esperti, ma pericoloso in inverno, perché il versante di salita è ghiacciato molto spesso e quindi decisamente scivoloso. Negli altri stagioni ho l'unica accortezza a non scivolare, soprattutto in discesa, sul terreno, sul ghiaione smosso. Andiamo. Ecco, questi sono i momenti che mi verrebbe voglia di fare pota, ma in pianura padana. Quello liscio, calmo, tranquillo, una piana, infinita. Unico problema è le zanzare. Momento di depressione. Bel panorama, eh, però. Ok, arrivati. Italia, ecco, Romeo, 012, Monte Aragola. La quota, buh, va scritta. No, forse è qui. 1.711. Ringrazio gli alpini per la targhetta con la quota. Adesso trovo, cerco un posto dove fare stazione. Io direi in questa piccola sella metto l'antenna, ramo del dipolo, ramo del dipolo, stazione lì dietro con un sedile naturale. E poi iniziamo. Ah, di là c'è il Monte Penice. Dovrebbe esserci locato uno youtuber famoso. Italia Uniform 2 Italia Chilo Eco. E' che è andato su a piedi, eh. Tendiamoci. Allora, Italia Uniform 1, Quebec avanti. Eh, guarda Giovanni, ti sento a pelo di QRM, ti sento veramente a pelo di QRM. 5.9 per il log e per la pazienza. QSL? Italy Whiskey One, Queen Eco America, Queen Eco America. Benissimo, Italy Whiskey One, Queen Eco America. 5.9, referenza sotto, Italia Eco Romeo, 0.12, QSL? GK2, november, bravo, whisky. Roger, Italia Chilo 2, november, bravo, whisky. 5.9, QSL? QSL, grazie, 5.5 per te, grazie, ciao. Ciao, buona giornata, buona domenica, grazie ancora. Italia Zelanda 1, tango, november, america. Perfetto, Italia Zelanda 1, tango, november, america. Ti tengo un attimo in frequenza, ti faccio una domanda. Sei registrato su QRZ con un indirizzo email valido, interrogativo? Sì, mi pare di sì, mi pare di sì. Allora, molto bene, sei la quarta attivazione della giornata, quindi la referenza è convalidata. Io ho raggiunto i 500 punti sotto e tu hai vinto un'antenna di Polo B-Banda, QSL? QSL, va bene, ti ringrazio, ti ringrazio molto. E senti, mi metti anche la sessione, vuoi mettermi la sessione? Certamente, dammi pure. Italia Quebec 1, Charlie Quebec portatile. Italia Quebec 1, CQ portatile. Roger, Roger, ricevo la sezione Italia Quebec 1, Charlie Quebec stroke portatile. Molto bene, 73. Se mi fai uno spot che ho un minimo di copertura telefonica, non riesco, mi fai cosa gradita. Grazie ancora. Allora, Italia Whisky 2, avanti. Roger, Italia Whisky 2, Oscar Eco Vittoria. 5-9, QSL? Italia Uniform 5, Lima Bravo Quebec, buongiorno. Italia Uniform 5, Lima Bravo Quebec, 5-9 più reali e 5-9 più reali. QSL? 1-1 Radio India Mike. Allora, Italia Whisky 1, Bravo India Mike, corretto? Radio India Mike, Italia Whisky 1, Radio India Mexico, QSL. QSL, QSL, Italia Whisky 1, Radio India Mike, scusami per l'errore, 5-9, 5-9 reali. Referenza sotto, Italia Ecoromeo 0-12, QSL? Italia Zulu 8, Sierra Tango Japan, Italia Zulu 8, Sierra Tango Japan, 5-9. Italia Zulu 8, Sierra Tango Japan, 5-9. Italia Zulu 8, Sierra Tango Japan, 5-9. Italia Azelanda 5, Charlie Mike-Golf, buongiorno. Perfetto, ricevo Italia Zulu 9, Charlie Mike-Golf, 5-9. Italia Chilo 1, Golf, Charlie Bravo. Oh, buongiorno, Italia Chilo 1, Golf, Charlie Bravo, 5-9 più. QSL? italia zelanda 3 charlie lima eco 59 roger italia zulu 1 giuliette chilo hotel 59 grazie per la cima sotto il tuo segnale 57 roger italia chilo 2 charlie india oscar 59 qsl ciao grazie buona domenica querezzetta allora il collega della zona 8 avanti roger italia whisky 8 eco delta alfa 59 referenza italia e coromio 0 12 qsl qsl al 100% alessandro 57 57 grazie buona domenica ciao grazie a te querezzetta allora io ho copiato india delta 4 probabile italia zulu 4 delta yankee quebec buongiorno oh scusami è italia zulu 4 delta yankee quebec mi sembrava un po strano come call italia delta 4 59 59 referenza italia e coromio 0 12 qsl qsl confermo 59 anche per te a modena grazie ciao 73 qr z allora avanti la stazione qrp si italia zelanda 1 hotel chilo eco qrp alessandro filonazorda allora italia zelanda 1 hotel chilo eco 58 59 il tuo rapporto reale anch'io qrp 5 watt con l'ft8 17 antena di polo a te il cambio e viva il dipolo grazie e 73 buona domenica allora italia chilo 2 india lima hotel 59 qsl buongiorno alessandro grazie per il summit 59 anche per te ciao 73 ciao 73 buona domenica qr z golf nel call golf in the call india uniform 1 india sierra golf è corretto allora io ho copiato india uniform 1 india sierra golf allora guarda scusami con cortesia india sierra golf ripetimi la parte iniziale del call giuliette sierra golf giuliette sierra golf roger roger india uniform 1 giuliette sierra golf 59 qsl qsl anche tutti i 59 qua in atti buona attività k2 giuliette tango sierra allora italia chilo 2 giuliette tango sierra 59 sicu sota sicu sota italy zulu for victor kebex sierra portable qr p sicu sota italia chilo 8 victor radio oscar 59 59 più qsl usl grazie buongiorno io ti ascolto un pochettino basso ma senza problemi 5 5 reale grazie buona domenica ciao ciao 73 buona domenica anche a te ciao cq sota cq sota cq sota italy a zulu 4 victor kebex sierra italy a zulu 4 victor kebex sierra cq sota allora italia chilo 2 zulu completami il call roger roger italy a chilo 2 whisky zulu quebec barrato 5 59 in mezzo al qrm 59 grazie buona domenica perfetto italy a zulu 8 delta francia oscar 59 qsl usl buongiorno buona domenica 59 grazie grazie a te buona domenica qr z roger roger ripeto il tuo call italy a zulu 8 oscar florida oscar qsl buongiorno italy a 4 x ray november november 59 qsl allora italy a zulu 5 papa juliet delta 59 per il log ma mi arrivi al limite qrm qsl ciao ciao 73 buona domenica italy a zulu 4 november delta romeo ciao alessandro 59 eccolo qua che è arrivato il mangianebbia italy a zulu 4 nota di redazione 59 anche per te qsl benissimo ciao buona domenica italy a chilo 3 sierra charlie bravo benissimo italy a chilo 3 sierra charlie bravo 59 qsl perfetto italy a zulu 6 florida charlie chilo 59 allora india zulu 5 hotel eco victor corretto 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 0 maike delta mike delta indecor oh ti roger oscar kilo one mike delta delta five nine a quest roger roger my friend a reference of italy eco romeo zero one two italy eco romeo zero one two se venti premi friend a gold sunday bye bye avanti il collega italico roger e italia victor 3 juliet hotel 59 qsl ti ringrazio buona giornata ciao buongiorno se mi ripeti il colla grazie roger roger e italia zulu zero italia juliet charlie 59 grazie con la buona domenica ciao 73 grazie roger e italia whisky 3 italia alfa tango 55 il tuo rapporto qsl roger ti ringrazio buona giornata buona domenica ciao allora italia whisky 1 papa papa mike qsl 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 ti ringrazio referenza sotto italia eco romeo 0 12 grazie allora italia chilo 5 bravo oscar hotel barrato 2 qsl qsl confermo 659 in provincia di milano italia whisky 1 alfa radio kilowatt 5 9 qsl allora italia zulu 1 alfa november chilo qsl allora italia zulu 1 alfa november chilo qsl qsl z1 alfa november chilo 59 il tuo segnale nome stefano roger stefano 59 anche per te nome operatore alessandro 73 buona domenica e sarà cambiata un pochettino la propagazione ma anche la batteria dell'apparato che ormai dice gli ultimi grazie e buona domenica ciao 73 e vai a quel paese attenzione attenzione i z4 vinco quasi sempre dai z5 c'è il ls col buongiorno italia zulu 5 giuliette lima foxtrot hai il fiatone l'hai fatta tutta di corse interrogativo eh sì per favore avevo paura che mi pote ne andassi mi lasciassi qua andare di tela eh fu queste già gli elefano 5 8 59 a guardi il signor claudio anche per lei 5 8 59 qui taglia zulu 4 victor che vexiera portatile qrp dalla cima sota italia eco romeo 0 12 monte ragola a lei il cambio perfetto la ringrazio molto del collegamento stato un piacere e alla prossima in si ottime condizioni all'accordo sono francia 5 papa ienchi italia per il sota avanti roger ti ringrazio francia 5 papa ienchi italia 5 9 referenza sota italia eco romeo 0 12 qsl o finalmente ci si sente in questo e non per via telefono allora ti passo la referenza italia eco romeo 0 12 qsl usl italia eco romeo 0 12 copiato ciao ale è un piacere sentirti u2 india chilo eco dalla vetta del penice con portatile a potenza media quindi penso un paio di watt e mi sa che siamo quasi in portata ottica del mituo 3 india chilo eco victor que vexiera riprendendo guarda dal monte ragola vedo le strutture che sono sopra il monte penice siamo a 30 chilometri di distanza la mia potenza è la bellezza di un bat è un'antenna ma sarà 20 cm bene bene perfetto nel frattempo buongiorno scusate riesco anche a sentirti come si deve ottimo io guarda sono esattamente nella postazione del del monte del simo lì ma si era oscar sono appena fuori e 59 se sto fermo 59 se no ti perdo non ho nessuno strumento poi vedrai dal video cosa sto utilizzando verrò bannato a vita e pensavo arrivasse anche angelo ma non c'è usl sì comunque ti sto riprendendo anch'io e se faccio il video ci finisci anche tu va bene dottore è stato un piacere collegarti vado giù dai ragazzi a vedere cosa stanno combinando all'interno della saletta del ponte ti auguro una buona giornata buona sotto buona attività e alla prossima ti saluto luca è stato un piacere buona domenica e buon divertimento perché dentro al ponte non è lavoro è divertimento ciao 73 salutami gli altri allora attivazione conclusa due parole veloci si riconferma il fatto che vediamo di spiattellarci qua si riconferma il fatto che con il giusto spot arriva epilap arriva una porca arrivano le chiamate con il giusto spot ringrazio il collega che ha fatto lo spot e poi ha una una un appendice visto che ho visto su youtube un po' di i video che in cui si spiega come si fanno i video su youtube vari colleghi radiamatori allora innanzitutto ho iniziato a fare i video il controsolo è pieno me ne batte altamente ho iniziato a fare i video solo per avere una conferma dei QSO e perché pensavo che al corrispondente facesse facesse piacere vedere le condizioni in cui lavoro dove ero e come arrivava infatti i primi video di qualche anno fa solo QSO e anche in questi c'è la parte dei QSO qui ci sono anche le parti dove sparo delle pellinate in mano e non perdo tempo a fare il montaggio io arrivo a casa scarico il video taglio qualcosina ma proprio le boiate più tremende e poi butto su youtube non ci perdo tanto tempo invece un applauso va fatto ovviamente ai taglia uniform 2 taglia il chilo eco che te lo trovi dappertutto me lo sono trovato anche in 70 cm qui sul monte ragola accendi 9610 e anche lì e ovunque vabbè però fa dei bei video montati bene e voglio ricordare anche poi in descrizione metto i link l'amico Riccardo e Giovanni Giovanni è proprio all'inizio però lui fa attività radio dal trave di casa se guardate i suoi video capite perché dal trave di casa mentre Riccardo panorami stupendi ottima fotografia veramente bravo e poi anche Gabri Italia Victor 3 Mike India Radio penso che sia quello il call anche Gabri Gabri Mir metto anche il suo canale che nella costruzione sembra nella costruzione di antenne o di apparati sembra una qualità costruttiva d'artigiano refice dell'ottocento è veramente uno spettacolo non è un paciugone come sottoscritto lui la stampante 3d non la usa lui fa tutto a manina fatto bene con limma e seghetto complimenti tutto lì e adesso scendo complessivamente proficua nonché una volta che hai fatto quattro collegamenti boh se è per quello ah il quarto QSO l'ho detto anche durante l'attività radio ha vinto il dipolo b banda perché 500 punti sotto ce n'è ancora arrivare a mille santo dio ce n'è ancora e quindi dopo quanti anni sono di sotto sette sei sette cinquecento punti c'è da dire che io attivo sempre le solite vette qui in zona una volta l'anno me le passo tutte e me ne restano ancora arrivare alla fine dell'anno tre o quattro mi resta la iona monte fabei poi cosa resta ma penso mica nient'altro si la iona monte fabei poi posso attivare magari per la prima volta monte cerreto che anche quello è nella valtaro va il parma anzi va bene 73 metto via il telefono perché sennò adesso mi 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 pianto e 73 buona domenica alla prossima da italiazzurro 4 victor che bexier di qua di qua di qua victor che bexier vinco quasi sempre è quasi che mi frega 73 3 3 3 3 4